Per sentirsi gratificati per gli sforzi, la fatica e le difficoltà organizzative, ai soci dell'aeroclub di Fano sono bastati i grandi sorrisi, gli occhi spalancati dalla gioia e le espressioni di meraviglia dipinte sui volti di quelli che scendevano dagli aerei. Un successo pieno, la terza edizione di Paradrenalina, forse la migliore di sempre, con oltre 150 diversamente abili, portati in volo dai piloti dell'aeroclub di Fano, aeroclub Terni e dalla Eagles Aviation Academy. 15 gli aeroplani che, volando senza sosta fin dal mattino presto, con oltre 80 decolli, hanno fatto felici mamme, famiglie e ragazzi giovanissimi di tutte le disabilità, rapiti dall'atmosfera festosa, arricchita dalla presenza del team RCM e del team East Coast Jeepers, che hanno intrattenuto dopo i voli i graditi ospiti. I primi hanno portato a spasso gli ospiti speciali di traverso, con le auto da drifting, guidate da piloti del calibro di Riccardo Tonali. I secondi hanno fatto provare gli ospiti il brimido del fuoristrada, in una pista appositamente creata per l'occasione, con buche, cunette e percorsi di pendenza. Quest'anno in particolar modo abbiamo cambiato la disposizione degli ingressi in pista dei velivoli, quindi la festa si allunga un pochino di più su tutto quanto il piazzale, quindi abbiamo più punti e di ristoro e di divertimento, quindi per tutti i ragazzi non si formano lunghe code, ma si riesce ad essere dinamici nell'attività e di terra e di aria. Vi danno più loro o più voi a loro? Qual è l'interscambio giusto? No, sicuramente danno sempre più loro, questo è fuori discussione. Noi una volta all'anno almeno cerchiamo di fare qualcosa di diverso per questi ragazzi. Non poteva mancare l'aeronautica militare che per l'occasione ha portato a Fano in mostra statica un maestoso HH 139 del quindicesimo Stormo Sar, gettonatissimo da tutti e che ha stupito per il suo decollo con mini esercitazione nel pomeriggio. Una macchina che ha salvato centinaia di vite e ogni giorno H24 è pronto a intervenire nelle situazioni più difficili. Un esempio per tutti poi è arrivato da Sabrina Papa, pilota cieca assoluta, come tiene lei a precisare, che ha pilotato un P2008 della Eagles Aviation accompagnata da un istruttore della scuola di volo. Ennesima dimostrazione è che con la forza di volontà si può superare qualsiasi ostacolo. Hanno partecipato all'evento anche il neo assessore al turismo agli eventi del comune di Fano Etienne Lucarelli, il sindaco di Fano Massimo Seri e il presidente del CONI regionale Fabio Luna. Quando come in questo caso si fanno vivere tutta una serie di emozioni anche coloro che sono affetti da disabilità perché come dico sempre quanto si arriva in un mondo fatto di emozioni poi la disabilità non esiste più. Assessore sarebbe bello anche che tutta la città fosse accessibile e inclusiva. Questo è un obiettivo che noi abbiamo, quindi fare in modo che non ci siano barriere per far vivere le strutture turistiche, per far vivere le attività, fare in modo che anche queste persone possano vivere a 360 gradi una città, un'emozione, un'attività è sicuramente un obiettivo importante della nostra amministrazione. Malgrado il caldo tutto si è svolto nel migliore dei modi grazie anche alle tante zone ad ombra preparate dall'aeroclub e l'ottimo pranzo preparato dai maestri polentari di San Costanzo che come da tradizione hanno cucinato la polenta direttamente sul posto servendo oltre 300 pasti. Insomma un intero Europaorto con uno staff di oltre 80 persone e più alle associazioni uniti per regalare ai meno fortunati e alle loro famiglie una giornata indimenticabile.